signori miei sono nuovi in test super test gare vinte ne ho vinte 3 su 4 sono nerri infatti adesso facciamo l'altra voglio fare questo bel velox per poi andiamo contro la ragazza del rixotto io le rixotto spero di vincere la sua e soprattutto spero poi me ne recupero una, le lavorerò e la userò per la polizia esclusivamente ovviamente poi gare boss e la farò sempre sempre solo che la punto però devo dire che avere un'altra marca solo per gli segmenti non fa male ho visto anche l'unorero del rixotto e non fermo più niente sconto tutti i suoi 10.000 giri si guida piuttosto bene a questo punto signore se la cava molto 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 bene adesso con un cambio un po più veloce un po più interessante manca solo un po di fattoria ma quello arriverà quello signore arriva arriva la polizia lo sapevo lo sapevo che devo farmi gli affari nei eccolo qua eccoci qua amici e questa è la mano tolta e questa pure una è rotta l'altra ora no non siamo qua per fare la gara in automatico dobbiamo andare molto veloce e verso la fine poi guarderemo la ragazza si iniziamo che però non ho mai dimmi l'ha detto eh a te è figo quando puoi agliare così eh amico devo fare quel pezzettino lì ma non c'ho fatta ehm tutta taglia in più questa signori tutta taglia in più spero si senta bene ho cambiato il programma di registrazione dell'audio quindi spero si senta bene sperando fosse bello non ho una idea ancora da ci cosa fosse a fare con il giro lì spero che mi senta bene comunque non con la voce meccanica da maniaco che avevo prima la voce era all'errore stiamo andando bene la gara vabbè la gara questa cosa è abbastanza facile e abbastanza facile su su poi la nostra rapport per la polizia questa su tutte cose tutte insieme la voce è ancora potentina quindi mi serve non tantissimo mi servono anche delle gomme migliori vinta e vinta 30 secondi abbondantemente vinta abbondantemente vinta rompiamo la scena e ora dobbiamo semplicemente seminare la pola ma ora mi hanno visto mi hanno visto mi hanno visto mi hanno visto una priorità 1 e mezzo eh priorità 1 e mezzo 1033 mi servono rinforzo sta attraversando la raffineria stanno attraversando la raffineria stanno attraversando la raffineria giusto nelle cose questo qua traffico il nostro amico traffico il nostro amico qua vedete mi sto avvicinando a tutti i vari segnalini ho raggiunto rimango dietro a tutti gli agenti impegnati nell'inseguimento sospetto vinto l'ultima volta in direzione est sulla ruta 55 e adesso e adesso mi ha sfidiamo l'avversario sfidiamo sì uno sprint circuito di cui il circuito dura 4 minuti e 30 4 minuti e 30 a me non piace moltissimo perchè è tantino però lo facciamo questa ricchetta con l'rx8 l'rx8 di questa cara mi piace tantissimo quando tiri le macce alla fai turbo l'rx8 perchè è infinita praticamente vi chiedo descrivimi sotto nei commenti guardate che è entrata se volete che continuiamo la storia non più l'appunto ma con l'rx8 molto fedele molto fedele devo dire lui può avere un range di guiata molto più ampio di quello che ci prega perchè è turbo quindi ci sta sdraiando molto simpatico l'amichetta io ho paura come avete visto io ho paura la paura non è quello che mi interessa però il bomber è un po' troppo per essere l'rx8 perchè l'rx8 è nota perchè non è che vada così forte in realtà il wanker essendo aspirato con fatica ai bassi ma gli altri invece ce la fa bene e le ritroffero molto come range qua sta succedendo qualcosa di brutto sta cominciando a far fatica eh sta cominciando a far fatica eh ma ma questa è la nostra cosa è recuperare un po' di terreno non troppo perchè se non saltasse così se non saltasse così anche l'assetto dell'rx8 che è il telaio tutto il resto sapevo che c'era un bidone in tutto il gioco e nettamente spero ma io sfrutto l'occasione perchè l'occasione è con l'uomo ladro e la battiamo spero di vincere anche in questa animacca perchè vorrei colezionarle tutte quindi qui quindi qua è più una maratona che uno splinter in questo caso quindi bisogna semplicemente godercela e andare a riparla lei ha perso un po' di terreno adesso il problema è che il blocco cerca di compensare il modo girato tipo questo tu metti su una macchina invisibile che non vedi e tu la prendi e questo è compensare il modo girato altra cosa in cui poco eccelle è compensare dando un milione di cavalli all'avversario questo è quello che succede non sta ancora succedendo ma perchè adesso sono ancora alla fine del giro quando io taglio più che posso io io taglio è riuscito penso eh bella manovra questa eh qui troppo una bella manovra devo dire un po' esagerata con il secondo appunto ho preso bene io faccio di qua è meno trafficata questa e soprattutto siamo già in direzione d'arrivo non posso tagliare pensavo di facciare lo stesso quinta piena stiamo andando benino eh la punta in realtà si sta rivelando un'ottima aleata per questo tipo di di corposi eh peccato per il nos che è molto molto deludente purtroppo il nos è ancora eccellente a causa del nostro livello molto grosso però 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 ce la stiamo cavando bene spero si senta con il finotto del microfono che è un attimo di effetto come tantissimo ho visto un pelo eh ho visto un pelino ho visto un pelino e spero che non vi erano in strani un po' più brutta e brutta e brutta e questo dovrebbe essere la fine del primo giro fra poco eh via d'alberato eccoci qua destra benissimo non ho preso mai l'alberello qua ho fatto una manovra spaventosa lei invece è entrata ai 1600 intorno all'ora come si è visto sono pure i rifugi cespugli vuol dire vuol dire che sono i rifugi cespugli perchè abbiamo 313 all'ora di questa massima che non è male un appunto vediamoci che stiamo dando un appunto per dire nfs 2015 2015 e lei ha letteralmente riluperato come non si sa anche qualche riluperato con la frenata qua perchè volevo prendere un po' più chiata invece lo pesa saltando un pendo tutto qua me la gioco sempre come prima me la gioco così poi su tutto che piantata lei sta succedendo qualcosa sta succedendo qualcosa di brutto comunque è già gelato eh questa che vedo è una notta amichetta ho avuto un attimo di faianze strano ma va bene allo stesso è stato dovevo frenare non mi ricordo se posso accorciare le marce nella macchina non stai risultando un po' troppo vediamo un'altra azione posteriore è giù nel risotto lo trovo a mio viso eh il gioco per esagerare quanto tutta la gara primo merito la vittoria con pochi errori anche direi che strano quindi si è questo è tanto quindi i il giro se anche vinciamo la sua macchina signori non fa niente l'importante è aver vinto la battaglia però la guerra la vincevo prima dopo anzi dopo contro azor due segnalatori contro risicure bene lei spero di vincere sulla macchina e poi delle performance cosa non succederà carattrezzi e soldi e macchina bene carattrezzi e macchina un amico biglow vero biglow signori che ha un eclipse e poi c'è la mia famiglia del caimanesa oppure aperizzi abbiamo dei nuovi pezzi abbiamo dei nuovi pezzi chi lo sa chi lo sa e chi lo sa oh si invece abbiamo il motore pro pistoni truccati truccati per dire acceleratore da gara albero con tutta gara questo lo mettiamo perché mi piace da morire ok trasmissione abbiamo già la pro espressioni biglow e water qua sempre biglow baron sono il motore alla fine sono il motore interessante interessante anche perché adesso allora io ne approfitto ci metto un cofono vero questo metto anche una presa d'aria sul tetto perché sono un assassino c'è qualcosa di doppio non mi piace molto quelle doppie doppie basse così mi piacciono tantissimo poi kit carrosseria questo mi piace ancora non mi piace più troppo esagerato troppo esagerato ritengo l'uno troppo esagerato ma me la fa pagare si ecco si ragiona si ragiona io voglio solo adesso provare una roba per x8 cambio un attimo l'auto e l'ericotto guardate com'è guardate com'è l'ericotto noi siamo per in superiore la generazione in manovrabilità però in manovrabilità è migliore soprattutto guarda gli appunti e soprattutto è migliore in in velocità 300.000 di taglia totale siamo a 274.000 vediamo se c'è un velox taglia 6.000 non mi dà niente voglio parlare con l'ericotto è lento davvero l'ericotto e l'ericotto davvero l'ericotto le unità disponibili rispondono la chiamata e forniscano copertura il sound è trepitoce guarda che sfiga non l'ho manco preso non l'ho manco preso va bene poi me la caverò io facciamo quella gara diciamo così è più lenta di quello che sembra è vero non è ancora potenziata al massimo non è potenziata per niente ripeto scrivetemi sui commenti se volete che togliamo la scusa ho fatto la taglia ho fatto la taglia quando l'ho fatto la taglia quando l'ho fatto ah ho fatto questa ho fatto la taglia quando l'ho fatto durante i 5 metri suggerisco la posizione e vincere la sfida ah l'ho fatta a 4 e non lo sapete va bene scrivetemi sui commenti se volete che faccio tutto con l'ericotto o più con la punta ma in questo caso è un po' superiore eh guarda è un po' superiore in accelerazione va bene dai signori cicaccio cicaccio cicaccio